Benvenuti, benvenuti, benvenuti 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 Benvenuti, benvenuti Benvenuti Benvenuti, 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 benvenuti is considered Mexico's most famous telenovelas and her telenovelas have been shown in more than 180 countries to more than 2 billion people. She has been named one of People Español magazine's most beautiful and she's also an author and written several books. I'm not going to recite them because you want to hear from her. She's involved with a lot of charities including the March of Dimes, the Robin Hood Foundation, and she's got many other things. But I think it's time to bring our honoree to the stage. Dahlia! 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 Okay. Now, you really do have great fans. Now we have a couple of speakers who are going to say just a few words before you hear from her. Now, our first speaker is one of the highest profile executives in the history of the music industry and is credited with discovering and finding careers of many of the world's most iconic music artists. And he also just happens to be married to Talia. Please welcome Tommy Mottola to the stage. BESO! 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 BESO che ha già seguito con nessuno, e una grande madre. Questo è un sogno come true, e io sono l'unico che si può comprare con lei. E oggi, la mia madre, Yolanda, è brillante. Allora, io voglio che mi ringraziare l'honorato Carlo Sada, Consul General di Mexico, e Maria Elena, che è con noi oggi. Grazie per noi. Ora, rappresentando la città di Los Angeles, oggi abbiamo l'honorato Mitch O'Farrell, che rappresenta Hollywood. Benvenuti a Mitch O'Farrell. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Los Angeles Cali. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Estrella, Hollywood, perché tu eras una bella Estrella. Buongiorno, buongiorno a Estrella, stiamo molto felice di avere voi qui, sì? Voi riconoscire il mondo, grazie a tutti i nostri amici. Voi riconoscire il mondo, grazie a tutti i nostri amici. Voi riconoscire il mondo, grazie a tutti i nostri amici. ma mi dico solo che in memoria di il nostro vecchio donore di Johnny Grant noi qui ne accoriamo questo Taliah Day in Hollywood Taliah! 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 I am so excited, so excited Buongiorno a tutti i nostri amici. 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 Buongiorno a tutti. 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 Talia, 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 Talia Grazie . . . . . . . Ciao a tutti Lili! 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 Oh e questa cabezona! Ponteo! Io anche! Ancora, Talia, per l'acqua Talia! Talia, per l'acqua Talia, per l'acqua Grazie a tutti! 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 A tutti! We can see! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!